Vebbia Re nuestras existentes Noi ci occupiamo di una cosa preziosa, noi ci occupiamo del futuro. Riuscite a immaginare un mestiere più importante? Riuscite a immaginare un mestiere più prezioso? Noi ci occupiamo delle famiglie, dei giovani e del loro futuro. Li aiutiamo, supportiamo nel progettare il mondo che verrà per loro. E questa è una grande responsabilità, una grande responsabilità che è nelle nostre mani, nelle mani delle persone che sono qua presenti e nelle mani dei nostri collaboratori in Italia. 15.000 persone che ogni giorno lavorano al servizio di tanti clienti che noi ripongono la loro fiducia. Noi siamo Alleanza! Noi siamo Alleanza!